ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un'altra simpaticissima puntatina di quei video che voi ci mandate che noi guardiamo tutti assieme e che ci divertiamo a commentare a spulciare nei vostri orologi nella vostra vita voyeurismo allo stato puro ci piace ci piace adesso non ho voglia di fare tanti discorsi come partecipare lo sapete vi mostro l'orologio del giorno che è un simpaticissimo longin legend diver quello da 39 mm ultimo uscito con le sue belle due corone la bug interna girevole il calibro l888 certificato cronometro tra l'altro questo qua è uno degli orologi più precisi che ho perché quando l'ho preso l'ho monitorato per più di un mese perché l'ho utilizzato più di un mese di seguito senza fermarlo e lo scarto era veramente cioè sull'ordine dei decimi di secondo al giorno perché come si fa a calcolare i decimi di secondo come fai allora se in dieci giorni mi ha scartato di un secondo vuol dire che mi ha scartato di un decimo al giorno è semplice non è che ogni giorno sto a vedere il decimo di secondo è che fai una una un calcolo matematico e viene fuori un decimo no semplice dai vanno i discorsi complicati perché la matematica è questa sconosciuta primo video ciao davide io sono stefania e qui con me c'è roberto mio marito che è il collezionista però siccome io sono la più sfacciata dei due sono io quella che presenta gli orologi allora iniziamo subito con questi orologi al quarzo è uno swatch qualcosa di rilevante ovviamente ma sono gli anni dell'università dove gli swatch ironi erano molto conosciuti e quindi ne abbiamo acquistato anzi ne ha acquistato due anche lui questo qui è completamente in plastica modello semplicissimo anche per lo stesso scopo poi qui abbiamo l'orologio del nonno che è un orologio di marca al noi sconosciuta quadrante abbastanza consumato tutto quando vecchiotto diciamo così ma che per valore affettivo come si suol dire rimane nella collezione certo stretto stretto poi passiamo invece adesso a questo festina anche questo non è niente di che però comunque ai tempi suoi ha fatto la sua bella figura e adesso ce lo teniamo qui nel nostro cassetto dei ricordi nel cassetto poi abbiamo il top del top che è un orologio senza nessuna marca senza nessuna funzione sta lì e gli si dà il nome che si vuole e le funzioni che si vuole giusto per passiamo a ciofecca a questi sector ne abbiamo tre in collezione questo qui è abbastanza carino col quadrante blu ok niente di eccezionale perché comunque è un orologio a batteria a batteria della stessa famiglia e questo qui è un modello abbastanza brutto è noioso pacchianato se vogliamo perché c'è questa cromatura dorata questo quadrante abbastanza affollato però negli anni 80 faceva la sua bella figura e cioè abbastanza rinomato della pagna sector ne abbiamo un terzo ecco qua questo qui è molto più decente ha un bel design è un comunque sì un meccanismo svizzero per cui ha una sua certa reputazione diciamo così reputazione mi piace e non fa una brutta figura neanche al posto insomma poi abbiamo questo non te lo faccio neanche vedere perché fa essenzialmente schifo e qui abbiamo una coppia di gemelli del famosissimo pagani design ma nooo è sicuramente un infarto per comunque sono qui ma quelle lì sono due due ne hanno presi uno e uno due sono la coppia la coppia sputata dei tagoyer acquareser eh sono proprio due eh la coppia la coppia rimarchiata te fai una coppia la costruisci uno a uno la coppia del tagoyer come è fatto così sposta un po' più in là eccolo uguale identico poi ci metti il tuo marchietto sopra e lo vendi no lo vendi a quelli che vogliono far finta di avere il tagoyer acquareser perché non c'è altro motivo cioè mi piace il design allora mi compro questo qua anche perché quell'altro non posso permettermi allora mi compro questo qua ma non funziona così non funziona così gli orologi ci sono orologi da 100 euro da 90 euro da 150 euro che hanno veramente la loro dignità un loro valore un loro una loro personalità con i quali un loro design proprio no con i quali ti puoi divertire io lo faccio anch'io lo faccio compro un citizen pro master mi compro un 6 o 5 quello che vuoi te ce ne sono un sacco ma non vado a comprare una coppia di un orologio più famoso non ha senso non ha proprio senso mancano qui non si può fare niente un terzo pagani design è questo qui con il quadrante nero e con la ghiera di due colori attenzione attenzione allora questo qua è chiaramente la copia sputata del rolex gmt no del rolex gmt però loro intelligentemente perché sono troppo avanti ci hanno scritto sui quadranti pagani design explorer capito che l'explorer ha tutt'altra forma no sono proprio simpatici questi ragazzi di pagani design vorrei conoscerli uno per uno uno sarà uno sarà uno un pagliacciotto messo lì che sforna gli orologi li ordina no ah che bello questo qua proprio bello bello mamma mia mamma mia fammelo vedere un po per bene ed è questo che ha rubato il cuore a mio marito e quindi se l'è preso così poi ci siamo un po rifatti abbiamo iniziato a capirci qualcosa di orologi e quindi ne abbiamo comprato qualcuno più decente eccolo qua un 6 o 5 che costa 120 euro 110 ma non copia nessuno eccolo lì è fatto così li ha sempre fatti così cosa gli vuoi dire a un 6 o 5 così niente te lo metti sul posto ti stanche bene anche elegante cioè almeno hai la possibilità di parlare con qualcuno di orologi e avere al polso un qualcosa che è una storia no eh sto qua hanno iniziato a farlo negli anni 60 poi dopo bla 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 così quell'altro ce n'è un sacco di 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 si parla di qualcosa nessuno copia meno male che pagani design non si è messo a copiare questi 6 o 5 perché non si è messo a copiare sicuramente perché rifarebbe allo stesso prezzo quindi uno si comprerebbe anzi il 6 o 5 no è una questione di prezzo se ti mi fai una copia del rolex gmt e me lo metti 100 euro non ci vado a spendere i 10 mila 15 mila per il gmt mi piglio e pagare design no no non io è io non piglio anzi niente anzi il rolex gmt proprio non rientra nei miei obiettivi non proprio non lo vorrei mai altri orologi di rolex li vorrei ma non quelli super inflazionati quindi proprio però eccolo qua 6 o 5 perfetto bello ce l'ho avuto anch'io blu con quella con la scala gialla particolare questo qua è molto più sobrietto un 6 o 5 con quadrante bianco e con la striscia qui rossa questo è un 37 mm però mio marito ha un polso abbastanza piccolo quindi diciamo che non sta male certo abbastanza carino semplice ci piace comodo poi ecco lì un citizen pro master mi viene voglia di dargli il top top un quadrante nero con ghiera nera e rossa molto carino molto solido molto sobrio e è un bello orologio certo poi passiamo a questo qui è un orient ray bello con quadrante blu molto carino molto semplice e nello stesso tempo abbastanza elaborato è bello bravo bell'acquisto col cinturino abbastanza solido e pesante e adesso passiamo a quelli che sono degli unici due che sono degni di essere chiamati orologi gli unici due no da vale a dire un bellissimo long jean idro conquest bravo questo è stato il primo orologio decente che mio marito ha voluto regalarsi eccolo qua in tutte le sue sfaccettature in tutta la sua bellezza e in tutte le sue funzionalità fantastico bellissimo non ti si non ci si stanca mai di guardarlo esageriamo e adesso arriva il re mi piacciono regalatori io perché io in quanto a gusto sono molto più avanti top ed è un mido ocean star tribute tribute brande nero e cinturino no non cinturino bracciale diciamo molto carino molto bellino molto bellino molto bellino e che fa una bellissima figura bellissima figura qui finisce la nostra collezione speriamo che di procurarci qualcosa di bellino anche a breve e con questo ti lasciamo e ti mandiamo tanti saluti da monaco di baviera che è il posto dove noi e speriamo che pubblichiamo questo certo lo simpaticissima bene ora te è un po esagerato gli unici due degni di essere chiamati orologi il mido e il longine anche no cioè ora non dobbiamo essere così tranchant tranchant cioè così netti nel definire cioè sono tutti orologi da chiaramente ci sono quelli che a parer mio hanno più valore ma non economico no sono il citizen pro master e 6 co 5 che costano poco e longine hydro conquest e il mido ocean star che costano tanto no poi ci sono quei tre errori di gioventù voglio chiamarli così voglio perdonarti dei pagani design copie super copie e poi ne presi due uguali non si capisce perché e poi quelli che andavano di moda negli anni 90 come quei sectorini lì gli swatch e hanno senso no anche se ora li guardi e dici ti viene un po di ribrezzo guardarli no però il design è quello degli anni 90 quello lì siamo ancora forse troppo vicini agli anni 90 per poter apprezzare completamente il design in quanto vintage non so se mi spiego cioè più ci si allontana da un dato periodo e più gli oggetti di quel periodo ci affascinano per la loro essenza vintage più sono vicini e più ci sembrano vecchi è un mio concetto va bene comunque siete promossi dai bravi monaco di baviarini siete promossi lui tito proprio comanditi va bene va bene così prossimo video ciao davide ciao davide da vicenza e volevo ringraziarti per la passione che ci metti per fare i tuoi video grazie a farti vedere la mia collezione di orologi poi infine per farti una domanda una allora cominciamo con tasca mega da tasca risalente agli anni 60 di mio nonno ancora in buone condizioni e tutto in acciaio ogni tanto lo metto col gilet visto che si presta a quell'uso certo e che comunque non si vedono molte persone che usano ancora gli orologi da taschino no poi vado avanti con altri vintage questo qua sempre di mio nonno un flare placato oro cronografo fatto metterà a posto da la mia gioielleria di fiducia monta un vagi 92 ha fatto cambiato il bilanciare e la corona non è quella sua originale ma la sua originale mi è stata restituita ah e metticela poi abbiamo questo orologio sconosciuto placato oro dell'altro mio nonno che come vedi si è consumato anche la marca sul quadrante quindi non ho idea cioè lì si è consumata la marca perché ragazzi c'è la sfera delle ore che sta strusciando sul quadrante cioè il motivo è quello lì lo vedi benissimo che c'è la scia no quindi c'è stare anche faticando sto orologio qua insomma a camminare lo apri secondo me si apre sto qua dietro è a scatto lo puoi aprire anche te perlomeno vedere il carico vedere cosa c'è scritto sul fondello se c'è qualche poi a una sistematina gli si può anche dare il quadrante va te la pesca cos'è cosa c'era scritto va però automatic inca block si legge ma di di che marca si tratti ho fatto cambiare il vetro che è nuovo e l'ho fatto revisionare e completamente funziona bene scusa l'hai fatto gli hai fatto cambiare il vetro l'hai fatto revisionare e non è stato in grado di dirti che marca è l'orologio nel senso che nessun indizio interno non lo so almeno il calibro ti fai dire calibro dici sto orologio monta questo calibro se poi è un calibro particolare vai a cercare tutti gli orologi che montavano quel calibro lì no una ricerca un po complessa ma si fa un pochino esclusione no magari si riesce arrivare se invece un calibro comunissimo rischi di fare una ricerca gigantesca però volendo un pochino si può anche fare la ricerca non ho idea di chi calibro incassi perché aprendolo non sono riuscito a trovare sigli informazioni su esso è proprio il mente un calibro russo perché non lo scatto rapido della data e in quel periodo comunque ha comprato vari orologi russi quindi è molto facile che il calibro sia la vedo dura perché automatic inca bloc inca bloc russo non può essere poi c'è scritto swiss made sul quadrante in basso in basso ore 6 lo vedo da qua scritto male ma non può essere russo almeno cavolo una foto fa la foto e poi fai la ricerca per immagini su google cioè prima o poi ci arrivi a qualcosa provenga da là insomma anche se non è detto perché anche tanti calibri svizzere vintage comunque dell'epoca appunto non avevano lo scatto rapido appunto appunto altro vintage sempre del nonno un interval questo funzionante così come l'ho trovato ho cambiato solo il cinturino sarebbe da cambiare anche il vetro ma no vedo così farlo ma perché il futuro insomma sta bene così graffiato sta bene così poi partiamo con i miei orologi partiamo male e questo è un casio l'ho usato per molti anni al lavoro infatti è distrutto ho cambiato anche tra i cinturini perché si erano rotti essendo comunque di plastica sono molto fragili e è stato il mio orologio per tanti anni al lavoro poi ti faccio vedere un seico seico alpinist questo l'hai recensito anche tu a certo e comprato il secondo raduno del canale a giuilleria pasquale domenici di viareggio bravo grazie molto bello secondo me avevo cambiato il cinturino ho provato c'è il bracciale ho provato sia con nato che con uno scamoscetto e adesso ci ho rimontato il bracciale insomma ogni tanto faccio questi change anche per change per diversificare l'aspetto dell'orologio certo scamoscetto scamoscetto poi il mio everyday watch questo seico turtle bello ci piace questo ultima una delle ultime referenze e col cinturino in caociu e questo lo uso anche al lavoro in magazzino quindi ha tutti i segni non so se si vedono e comprato quest'estate è bellissimo ghiara molto fluida e sono molto soddisfatto bravo mi ci vuole un seico ho il unico quartz in collezione che ho voluto prendere per il significato storico questo seico quartz o che bellino 79 anche bello bracciale originale bello bello messo in ottime condizioni tra l'altro il bracciale l'ho risattinato io penso di aver fatto un lavoro comunque decente se anche la clasp l'ho risattinata io perché era piena di graffi per il resto era a posto fino anche al per cambiare la batteria secco quartz topino gli diamo poi veniamo a questo nogin della master collection mi piace molto elegante 38,5 mm da 2892 e prima che incassassero l'l888 so che te non piace molto perché ha il dattario che va a finire sul numero 6 però secondo me è questo che non è vero io comprendo cioè i numeri così tagliati anche dalla secondina negli anni 60 ed esistevano cioè era proprio prassi normale era un design calcato e ricalcato quello di tagliare le cifre con la secondina o con la o con il dattario e cioè fa proprio parte del design quello su quello non ho niente a dire non mi sconfiffera tantissimo come modello non so nemmeno io perché cioè io amo il longi mi piace il longi però non lo comprerei non rientra tantissimo nei miei gusti e non so dirti perché probabilmente per quello stile lì con i numeri così stampati un po molto retro eppure stavo notando che è bianco con quelle sfere blu lì si legge benissimo ma proprio quello quello in punto suo favore però non lo so non è che mi ispira tantissimo ma è nemmeno brutto per l'amor del cielo è particolare e molto bello secondo me molto bello poi i due pezzi forti della collezione e cosa sono faccio vedere questo omega seamaster 300 midsize top scatola e garanzia dell'epoca 36 millimetri qua ha un valore enorme per me perché è stato diciamo il primo orologio costoso di lusso che uno dei primi che comunque mi ha fatto innamorare dell'orologeria meccanica ebbè lo volevo il missa volevo proprio il midsize lo volevo full set non avevo purtroppo la disponibilità economica per poterlo comprare all'epoca e ho aspettato tanti anni al fine l'ho trovato grande come lo volevo io in ottime condizioni bracciale perfetto c'è solo questo un po dei segnettini con sulla ghiera e li perdoniamo ma certo sempre 28 92 modificato da omega certificato cronometro con gli indici ingialliti bello dice altrizio che sono ingialliti sono diventati gialli c'è piace complimenti anche per lo sforzo che ha fatto di attesa ultimo orologio che mi sono regalato diciamo il pezzo forte della collezione cos'è questo girecutre mamma mia carica manuale dopo metà anni 2 mila scatole garanzia bellissimo orologio messo in condizioni direi a che misura ottime un prezzato molto giusto con cinturino istruzzo e chiusura ovviamente originale e tu metà anni 2000 ecco anche a me piacerebbe avere un reverso in collezione no però io come ho detto molte volte fatico a tenere in considerazione gli orologi degli anni 2000 primi anni 2000 cioè li ho presi l'ho presi anche c'è anche l'acqua terra che è del 2003 il devil che è di quel periodo lì però fatico fatico ora per esempio se volessi un girecutre io lo coprerò nuovo o di secondo polso recente 21 22 23 roba così è chiaramente la misura grande fatico ad andare a cercare un reverso del 2003 poi le revisioni chi l'ha avuto è passato di mano in mano eppure è conveniente perché sicuramente i prezzi un orologio di 15 anni fa sono più sono migliori rispetto a quelli di un secondo polso di un recente no con verrebbe comprarlo così come comprato ti però preferisco che che abbia abbia toccato pochi pulsi che sia passato per poche mani un poco utilizzato e capito come nuovo praticamente mi piacerebbe averlo un po così che ragiono io dell'orologio questo qua secondo me il dress watch e tondo io intenderei un dress watch perfetto quello tondo tondo e piccolo 37 mm un calatrava della patek filippo una roba così gli orologi si di forma rettangolare anche loro possono essere considerati dress watch ma a dire il vero non è che tutte le occasioni potrebbero essere usati ora ti sto parlando veramente da purismo cioè perché porta niente a me di abbigliamento e delle situazioni formali proprio niente cioè io mi vesto come pare e indosso quello che mi pare però volendo dire dress watch rettangolarissimo così potrebbe anche suonare certe situazioni comunque sono d'accordo con te la collezione è finita e volevo farti quest'ultima domanda non vedi e non ho un cronografo in collezione fra diver everyday watch e comunque ero oggi eleganti mi mancherebbe un cronografo stavo valutando non subito purtroppo che non disponibilità immediata quindi ma certo potrebbe essere che negli anni cambierò idea avevo valutato o un tago ier carrara e cronografo glass box che sarebbe la referenza nuova del carrara col cinturino e calibro di manufattura naturalmente c'è o blu o reverse panda mi piacciono entrambi tutti e due ovviamente dovrei provarli per vedere quello che mi piace di più oppure un omega speedmaster broad arrow e che anche quello mi piaceva molto per diversificarlo dal solito speedmaster che ovviamente molto bello però comincia a diventare molto comune fra gli appassionati e l'unica cosa che mi frena da questo orologio è che non ha un calibro di manufattura ma nella vecchia referenza incassava un calibro federic piguet e di derivazione federic piguet e modificato da omega e certificato cronometro però comunque non un calibro di manufattura però di alta fornitura mentre il carrara ovviamente monta una manifattura insomma ti ringrazio per per i video ancora una volta e a presto a presto ciao 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 beh se ti poni davanti a due scelte due particolari cioè entrambe validissime federic piguet lì il calibro che dici te che deriva da federic piguet c'è anche da considerare che la casa federic piguet è stata inglobata o non ricordo se da omega o proprio dal gruppo swatch o chi o chi per esso chi c'era prima del gruppo swatch no smh bla 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 quindi siamo sempre lì come il 1861 era un calibro le mani è derivato alle mani e poi tra l'altro ci sono alcuni brodarro che hanno anche il calibro 1861 1861 che c'è lo speed master vecchio perché brodarro ci sarebbero delle delle referenze ben precise da definire brodarro però noi consideriamo tutte quelle che hanno le sfere a freccia oggi sono anche quelle col 1861 e lì la prima cosa che mi viene mente e l'ho tenuto in considerazione anch'io ma che si va nuovamente si va nel passato si deve andare a pescare tra il vin neo vintage usato usato primi anni 2000 2007 2010 così mentre col carrera ti andresti a comprare un orologio nuovo di pacca perché non so nemmeno se si trova già usati perché è uscito da poco è quello dovresti scegliere te no sono due cose un po differenti io ti direi considerato che omega ce l'hai già c'è si master anche un po per diversificare i marchi perché io a volte faccio le scelte anche in base ai marchi cioè io non so se qualcuno di voi lo fa ma io a volte dico ma di questo marchio qua non c'ho niente no mi piacerebbe avere un orologio di gg le cutre vado a vedere gli orologi che mi offre gg le cutre per decidere poi magari se c'è qualcosa di che mi interessa e mi scatta la scintilla no proprio così parto dal marchio no no non ho niente di ora cos'è un marchio che di qui non ho non ho niente no breghè per esempio allora voglio vedere cosa c'è gli orologi di breghè infatti non c'è mai uno e meno uno che mi piace quindi breghè rimane fuori per dire no però per diversificare un tagoyer ci starebbe anche bene nella collezione no costicchia però è sicuramente un orologio valido mi ha suggeristo ti suggerisco il tagoyer carriera mi piace tanto ciao davide ciao sono daniele daniele provincia di verona verona intanto complimenti per il canale complimenti per questa rubrica che è veramente interessante divertente va bene adesso cominciamo a mostrare i miei orologi una parte della collezione quelli che reputo ma i quali sono un po più affezionato diciamo ecco allora parto da questo partiamo da intanto dal giappone è un amante di diver questo qua primo che ti mostrano 7 5 4 8 è il modello del 1980 ai quarts funziona ancora si vede male in teologiche ancora soddisfazione unica cortezza quella di cambiare di tanto la batteria quando si sta per scaricare e per il resto è cassa slim questo è il nonno delle sky ex quindi praticamente con il bisnonno l'orologio quale sono molto affezionato l'uso ovviamente con un po di criterio perché non andrei più a fare dei gran bagni ecco con questo e no si viene sfocato per ora secondo l'orologio sempre un vintage che viene dal giappone 6105 originale questo nelle fattispecie un modello del 76 tenuto ovviamente vabbè tenuto anche abbastanza bene per gli anni che ha messo su questo cinturino qua waffle mi sembra che l'insieme sia quello di un orologio molto molto accattivante e soprattutto iconico come si usa dire si vedeva l'orologio sempre dal giappone questo è un orologio al quale sono affezionatissimo anche perché ritengo che sia un orologio anche forse un po sottovalutato come diver eccezionale la cassa monoblocco io diciamo l'unica cortezza che ho avuto è stato quello di sostituire il bracciale originale non perché non mi piacesse ma perché in effetti se no niente dai amico del canale se stai vedendo il video deve rifarlo perché qua è tutto sfocato gli orologi si vedono male cioè è una è un peccato dai non posso non posso mandare non posso mandare questo questo video qua dai mi spiace lo pubblico per farti capire che devi farlo andiamo al prossimo ciao davide ciao saluto anche a tutti gli amici del canale saluto mi chiamo franco abito in provincia di venezia e volevo mostrare la mia collezione di orologi partendo dai pezzi più vecchi omega geneva del 1952 orologio che apparteneva a mio padre è un 35 mm che bella saia ma calibro omega 266 che indice con la sua coroncina originale e indici orologio che è stato sistemato completamente una quindicina d'anni fa rifatto anche la ristampa del quadrato cosa che probabilmente non rifarei adesso mi ricordo che all'epoca era veramente messo male e va bene da ho legato ways 1968 cavolo regalato di molto tempo fa da un amico ma che per tanto tempo è rimasto nell'indifferenza totale poi per colpa tua mi sono riappassionato agli orologi l'ho rispolverato fatto sistemare e adesso funziona discretermente è un 38 mm però bello vedere un olec and ways no che a me piacciono gli olec and ways no purtroppo l'amico giacomo non ce l'ha più in concessione perché per problemi di approvvigionamento insomma sono stati dei disguidi probabilmente poi magari torneranno anche a me piacciono amico piero ce n'ha uno mi piace o le canway si fanno proprio belli orologi e vederne uno vintage mi solleva un po l'animo dai mi rasserena mi rende però secondo me la corona non è la sua originale perché è un po' diversa differente anche colore ghiera bidirezionale indice altrizio monta un calibro eb 80 21 così disse l'orologio che lo sistema movimento che all'epoca era molto usato e per esempio montato in una vasta gamma di modelli della lanco a questo invece è un tiso auto auto loop plastica metà anni 70 dove auto loop sta per auto lubrificante i meccanismi interni sono costituiti per la maggior parte di materiale sintetico plastica e che non necessita quindi di lubrificazione e e neanche di manutenzione successiva è un 37 mm se 37 quadrato blu con una leggera lavorazione ghiocché questo progetto di tiso fatto in quegli anni probabilmente era un tentativo per contrastare l'avanzata del quarzo ma non mi risulta che abbia avuto molto successo no però il tiso è sempre stata un po' pioniera dell'utilizzo dei materiali sintetici plastica negli orologi ma sia nelle casse sia nei cinturini che nei calibri come in questo caso mi sembra che ci fosse solamente una o due due elementi in metallo in tutto in tutto l'orologio poi il resto erano ruote di plastica no auto lubrificante si diceva poi chiaramente è solo il tempo che dice se veramente è così ma anche ripararli sti qua poi viene difficile però non è che era per lì per combattere forse nel senso di 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 prezzo vuoi dire nel senso di orologio economico da tenere a basso prezzo per combattere a parte che i quarzi all'inizio erano che costosi e quindi a un certo punto magari volevano combattere a livello commerciale con questi calibri così ma secondo me è più voglia di di innovazione che non di di abbassare i prezzi è però non ha avuto successo primo acquisto ponderato dopo anni passati con quarzoni e qualche orologio meccanico sovietico e questo un carrera tagoyer acquistato nel 2008 è il modello appunto calibro 16 che monta il movimento Valjoux 77 50 è un bel mattoncino ma che fa ancora impeccabilmente il suo lavoro certo fa il suo dell'anno successivo sempre di casa tagoyer questo monza è un regalo per mia moglie è un 38 millimetri movimento eta 28 94 sono due moduli sovrapposti vediamo anche dall'allineamento dei pulsanti rispetto alla corona è un orologio che fino a poco tempo fa perdeva due minuti al giorno come va mandato in assistenza tagoyer ed ho scoperto che l'assistenza per italia spagna e portogallo viene svolta a madrid se lo sono tenuto in paio di mesi abbondanti è tornato come nuovo e funziona benissimo gli avrà cambiato il carico in collezione abbiamo un conosciuto 6 cossard 033 38 mm bello costruito molto bene e che funziona altrettanto bene certo l'ho recensito anch'io perfetto orologio un famosissimo orient camasso ma aggiungere niente cosa vuoi aggiungere volevo un orologio col quadrante chiaro mi sono regalato questo bellissimo omega acqua terra da 38 mm argente questo è un 2021 quindi col calibro 8008 8008 un orologio che ha un grado di leggibilità veramente incredibile in qualsiasi condizione di luce se orologio di cui mi sono innamorato sono buoni tutti così come field watch ecco noi tra ecco noi tra bello una realtà veneta fra l'altro poco distante da casa mia questo è il modello averau da 39 mm col calibro sellita sv 200 mi è piaciuto da subito la grafica del quadrante orologio che funziona molto bene adesso a questo cinturino in cuoio vintage ma ho anche il suo bracciale originale in acciaio mi piace di questo orologio mi piace la leggibilità che anche qui mi sembra abbastanza buona magari gli indici sono un po piccolini gli altri ma quelli e quarti sono ben visibili e poi guardate la corona di carica zigrinata così a me mi fa anche il mio il mio calamai no le mc 72 usa queste corone di carica zigrinate a me mi dà proprio l'impressione di di attrezzo mi piace tanto mi piace queste corone così in turino in pelle nera vegana sempre della casa per l'orologio veramente bello sì una recente acquisizione è questo panerai top 1371 luminor 40 l'orologio che ho regalato a mia moglie la quale apprezzava da sempre le linee panerai è un 40 mm di diametro cassa ora 40 mm ho già i puristi collezionisti cioè sinceramente a me non ne frega niente dei paneristi dei puristi collezionisti quelli che considerano panerai solo prima di una certa data ho fatti in un certo modo sinceramente proprio se un orologio mi piace lo prendo indipendentemente se gli altri lo considerano non degno di far parte di quella storia lì può portasse a me l'unica cosa di questo orologio qua è il bianco e qua davanti bianco a me mi fa fatica io lo prenderei nero 40 mm poi e 30 e 30 30 metri di impermeabilità 3 atmosfere sto qua dovrebbe essere o mi sbaglio io quello da 40 deve essere quello posso quelle sono poche però al movimento automatico con 72 ore di riserva di carica e un impermeabilità di 100 cento ma allora più e 40 di panerai storceranno un po il naso perché non ha le caratteristiche dei modelli più iconici in termini di grandezza e impermeabilità ma devo dire che questo ne mantiene assolutamente i caratteri somatici sul polso femminile sta veramente bene e direi che se consideriamo anche l'ingombro della copricorona sta bene su un polso come il mio che è quasi da 18 cm viene fornito con un cinterino supplementare in caucci verde militare carino da utilizzare in estate che ha questo sistema di aggancio e sgancio rapido prevettato da panerai bello mi piglio 40 millimetri ultimo a chiappo una referenza che inseguivo da un po di tempo e questo planet ocean da 42 millimetri bello è un orologio che ho trovato da un rimeditore messo molto bene ho avuto anche due anni di garanzia appena revisionato full set bello mi piace un orologio che mi affascina ogni volta che lo guardo ce l'ho avuto anch'io ha un grado di trattamento sul vetro antiriflesso che in certe condizioni sembra quasi che il vetro non ci sia è vero è vero questo confermo anch'io fa qualche riflesso ma si può già notare in questa posizione che è così confermo niente questo è quanto quanto spero il video sia piaciuto e merito di essere pubblicato è certo un caro saluto ancora a te e a tutti gli amici di canale e alla prossima ciao alla prossima ciao 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 bella collezione di orologi tra i vintage, neo vintage, moderni belli assai panerai da 40 ora mi è venuta voglia di comprarmi il panerai da 40 mm non l'ho mai provato il pulso farà l'effetto un po' cioè pur essendo da 40 che è piccolo per essere un panerai magari lo fa un po' l'effetto no? con quella corona lì un po' l'effetto ciccione e poi che mi frega a me se vengono considerati solo quelli da 47 mm io comincio a tenere in considerazione anche quello lì nella mia ricerca per un futuro orologio panerai prima o poi ci vorrà prima o poi ci vorrà però dovrei provarlo da 40 mm se qualcuno ce l'ha e me lo presta per provarlo prossimo video buonasera Davide buonasera a tutti gli amici del canale contatori del tempo io mi chiamo Antonella e ti mando questo video dalla provincia di Taranto Taranto comincio col dirti che la collezione che sto per mostrarti ora non appartiene a me direttamente non appartiene a mio marito Mauro io canto e diciamo non sono grande esperta del settore orologi però posso dirti che da quando la sera stiamo guardando puntualmente i tuoi video su youtube comincio ad appassionarmi anche a me oh vedi questo mondo sto portando tutti nella cattiva strada anche le famiglie riunite che guardano gli orologi e poi si appassionano gli orologi che roba strana questa complimenti per la tua vaglia così astratta un po' stile impressionista fla 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 messo lì così brava 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 fai la cantante e ha detto Antonella va bene cantaci qualcosa bello bello di orologi vai allora ti presento i miei primi tre quarzi ho qui un Pierre Bonnet un cronografo poi abbiamo un cosa? Timberland ah no tieni ciappalo carino ah no Timberland ah poi per ultimo abbiamo questo Nike Swatch Hyrule va bene cinturino in pelle simpatico uno Swatch cominciamo con gli automatici vai allora abbiamo questo Swatch è un altro Swatch carino ma pur sempre uno Swatch però ha questo bel movimento a vista vintage neo vintage vintage poi abbiamo questo Bernie o Bernie cosa è un cartone animato Bernie ecco qui e poi qui abbiamo una serie di Seiko però voglio farti vedere questo Anthony Anthony Bernie Anthony ecco qui è già svenuto male brutto eh carino che è questo ah carino vabbè poi questo è secondo me a mio parere il più carino dei Seiko per via di questo quadrante particolare che si ritrova guarda qui eh secondo me è falso non lo so non riesco a vedere bene molto particolare secondo me non riesco a vedere bene ma quella roba lì dei Seiko 5 sono quelli indiani che fanno assemblati con quei quadranti strani così non sono riuscito a leggere bene a capire riguardo un attimo ma le immagini non sono tanto sono sfocate non si capisce però c'ho i miei dubbi 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 eh anche guarda vedere da qua mi sembra se con lo scudetto sono anche storti non riesco a capire bene particolare qui abbiamo un Seiko 5 Seiko 5 cinturino in pelle e anche sto qua vabbè sarà sì poi abbiamo un altro Seiko 5 un altro Seiko 5 non si vede male però ecco qui ed un altro Seiko 5 oh questo mi sembra quel più normale di tutti andiamo con qualcosa di più recente e abbiamo questo grande Citizen è un 46 questo sarà un 45 46 mm massiccio poi abbiamo qui un altro Citizen Promaster Promaster che l'ho regalato io per Natale quest'anno brava anche qui non poteva mancare questi Citizen Promaster molto bello molto bello simpatico ci fa il suo poi abbiamo un orient bambino bambino è un classico anche questo con un cinturino nato in nylon sembra più uno Zulu bambino bambino uno Zulu questo cinturino Zulu ecco qua e poi per finire la collezione abbiamo questo bellissimo Omega lo Speedmaster top Omega Speedmaster guarda qui ora ti faccio vedere fammi vedere questo è doppio petro zaffiro se non erro eh sì non è bellissimo movimento ecco qui guarda uno spettacolo e direi di sì ecco qui questa era la mia collezione che avevo piacere di mostrarti a te e tutti gli amici che che partecipano a questo meraviglioso canale eh meraviglioso continua così grazie sei simpaticissimo oltre che molto realista nel presentare gli orologi grazie per per l'attenzione grazie a te grazie a te love 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 allora è finito col botto come si vuol dire perché l'Omega Speedmaster Moonwatch ha sempre il suo perché e fai bene a presentarlo così con questa enfasi perché sicuramente è un bello orologio per il resto poi maggior parte sono orologi entry level no tutti validi tutti che hanno un senso a parte quel Timberland che proprio sinceramente si potrebbe evitare un quarto messo lì poi hai fatto vedere tutta la serie 6.5 purtroppo qua le immagini non so se poi voi dal video le vedete diversamente ma non riuscivo a capire erano un po' bruciate nel senso troppo bianco e non capì non ho visti questi 6.5 uno mi ha fatto venire il dubbio che potesse essere un Frankenwatch uno di quelli che fanno gli indiani con i quadranti di fantasia no e poi dopo a quel punto lì anche tutti gli altri mi è venuto il dubbio ti si appoggia qua il coyote qua che ti suggerisce nell'orecchio ma allora se quel primo era dubbioso anche gli altri sono dubbiosi dopo va tutto a rotoli non sono riuscito più a capire l'attendibilità o meno dei quadranti di quegli orologi tranne l'ultimo 6.5 che probabilmente è veramente quello più attendibile credibile per il resto grazie per i complimenti e complimenti per i complimenti per gli orologi complimenti hai capito complimenti prossimo video ciao Davide un saluto a te e tutti gli amici del canale sono Ulisse da Milano vecchio metallaro ho quattro quattro orologi da farti vedere quattro inediti direi mai visti sul canale partiamo via veloce veloce ognuno con una storia particolare almeno i primi due allora questo qua ops ops questo qua è ProMaster in titanio l'ho acquistato nel 2006 per fare il corso di immersioni in Thailandia e con questo ci feci un centinaio di immersioni alle Similan alle Surin il golfo di Thailandia questo è figo si ha girato dei fondali meravigliosi ehi allora lì per lì la prima cosa che mi viene da sparare è brutto ok va bene perché perché non è convenzionale è un tombino così titanio bello no il quarzo poi giustamente ti aggiungi questo qua l'ho preso per fare le immersioni cioè hai comprato veramente l'orologio attrezzo che ti serviva in quel momento per fare quelle le altre cose allora da lì mi è cambiato c'è stato il plot twist e ho cominciato a ragionare sul fatto che è veramente un orologio strumento che deve essere utilizzato per le immersioni e che ha il suo senso di esistere fatto così con quelle robe grosse lì che ti fanno vedere i tempi di immersione che insomma è giusto così non è un orologio che stasera vado a mangiare da cracco da cracco e mi metto sto qua alto così al tavolo e mangio no capito è un tool watch eccolo qua il tool watch al quarzo ecco drive titanio gigante così peggiori bar di Bangkok alto che orologi da battaglia via via col primo vai secondo secondo Miriam oh Air King del 1971 questo qua lo è Galaia mia moglie per farmi perdonare un viaggio in Thailandia da solo di un mese e mezzo perché io andavo lì tutti gli anni prima a scalare e poi a fare immersioni eh sì lui andava in Thailandia a scalare e a fare immersioni non ci andava mica per tradire la moglie no lui gli era regalato per farsi perdonare i viaggi non quello che faceva nei viaggi capito attenzione a come l'hai sposta un Rolex gli era regalato per farsi perdonare cioè vuol dire che il livello del peccato è veramente alto eh o milanese fatto sta che gli ha dato dentro tre zappate appena revisionato appena sostituito il vetro il plexi anzi e via lo uso io perché se no mi incazzo bravo numero tre allora sembra un diver non è un diver c'entra un cazzo con i diver questo qua è il pacciassi timer un tombino in acciaio mostruoso direi che qualitativamente non si discute eh beh perché è proprio è mastello è rovinato però eh però vabbè un diver non deve avere una chiusura farfalla e il fondello è avvitato come già saprai ma lo comprai nel 2009 così mi sembrava figo capivo un cazzo di orologi e ciò si avevo fatto una mezza puttanata comunque ogni tanto lo metto ogni tanto mi slogo il polso questo questo ragazzo qua poi ultimo il mio orologio quello che mi ha accompagnato veramente da sempre ce l'ho avuto addosso da sempre ci ho fatto di tutto dopo far conto allora 5513 che adesso è rotto porca puttana mi sei rotto andando in bicicletta mi sa devo farlo riparare ma adesso non ho soldi questo qua del 1981 bracciale in latta ripiegata la chiusura fa proprio schifo latta ripiegata anche questa eh vabbè questo qui immaginati che ce l'avevo con un moschettone attaccato dietro all'imbrago sulla via attraverso il pesce in marmolada nel 1996 dopo che tre giorni prima distrussi uno svuoccio su una via alle non mi ricordo alle tofane alle tofane su un rovescio gremai completamente lo svuoccio allora fui costretto a usare questo qua però ebbi la buona idea almeno di attaccarlo dietro all'imbrago e di non distruggerlo attaccato al polso per me quando scalavo in montagna su vie dure anche lunghe avere l'orologio è importante mi serviva a sapere le tempistiche se devo lasciarci il bivaco oppure meno buona è tutto bello eh bello bello di papà con la sua bella patina bello marcio saluto te e tutti gli amici vedo che comunque tre minuti tre o quattro minuti di video possono anche bastare per quattro orologi non stiamo troppo a dilungarci ti saluto e buon natale buon natale buon natale come al solito siamo a febbraio buon natale e niente un appassionato un po' sui generis in quanto anche a smargiasso veramente così che però veramente ama l'avventura perché fai le immersioni e poi fai le scalate mi sembra anche da quello che sento che ci capisce anche al di là della spavalderia nell'esporlo si è portato il submariner attaccato dietro su per le su per le montagne ora si è rotto non c'è soldi per ripararlo ma magari un pochino più di attenzione quando io dico che gli orologi vanno usati va bene ma questo qua è un vintage è ok un pochino più di per stargli un pochino più di attenzione un po' più di preservarlo cercare di fargli durare altri 30-40 anni quanto ha vissuto no perché arrivi te me lo ammazzi allora buono ecco nei tuoi casi che fai immersioni che fai le scalate hanno veramente senso quegli orologi da battaglia che uno dice economici che non ho paura che gli faccio prendere dei colpi secondo me anche quando vai su a fare le scalate le montagne anche un diver ha senso magari con il bracciale in gomma con il cinturino in gomma un pro master di quelli da battaglia secondo me farebbe il suo in quelle situazioni lì anche se insomma non è che vai a fare le passeggiate come tanti vai a fare le scalate va bene dai mi sembra di aver detto tutto ragazzi spero vi siano piaciuti i video del presentatore e il contesto io vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao ciao